buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova diretta di macro today si chiude una settimana si chiude una settimana importante per i vari dati che sono usciti e si chiude la settimana importante perché ha dichiarato gli utili anche invidia così ci siamo tolti questo dente ragazzi ho commentato in maniera più o meno approfondita sicuramente per quello che mi interessava condividere con voi ed era ritenuto utile e interessante condividere con voi sul canale telegram quindi se volete andare a capire di più cosa è successo ad invidia dal punto di vista del fatturato gli earnings sono andati bene di nuovo gli earnings sono andati bene di invidia il problema di invidia è stato un problema di wow effect è mancato il wow effect no questo ho detto nell'audio che ho mandato su telegram e cioè quante volte ci siamo detti in queste dirette ragazzi i mercati hanno aspettative altissime su invidia hanno alzato tantissimo l'asticella non gli è bastato vedere il più del 120 per cento in termini di revenue non gli sono bastati i risultati incredibili che hanno battuto i record per quanto riguarda il fatturato dei data center volevano di più ed è proprio questo il problema è che i mercati a volte vogliono di più vogliono troppo e voler troppo vuol dire rimanere delusi anche quando il dato è positivo ed ecco che quindi ieri invidia ha avuto questa flessione signori si tratta di una flessione veramente piccola il 4 e mezzo il 5 per cento per un'azienda volatili come invidia è niente niente ok è un incidente di percorso sarà interessante vedere invece nei prossimi giorni come si svilupperà questa questo movimento del resto ragazzi siamo sempre 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 più vicini al taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale attesissimo scontatissimo i mercati stanno scontando al cento per cento il taglio a settembre 18 settembre la data e non è tanto secondo me ormai il taglio ma è la profondità del taglio 25 punti base 50 punti base c'è addirittura leggeo degli articoli c'è chi dice dovrebbe tagliare di 75 punti base secondo me è follia totale se dovesse tagliare di già di 50 creerebbe problemi ai mercati perché potrebbe essere una missione di non avere la situazione sotto controllo di dover intervenire in maniera più massiccia perché evidentemente vedono dei dati che sono più preoccupanti di quello che il mercato sta scontando quindi il mondo del lavoro i prossimi dati del mondo del lavoro e dell'occupazione da qui al 18 settembre abbiamo ancora dei dati che usciranno diciamo che aiuteranno ad ammorbidire meglio la decisione che prenderà paolo il 18 settembre però stiamo anche attenti e oggi voglio proprio parlare di questo nella seconda parte della diretta ragazzi voglio dedicarla a che cosa succede quando si inizia un ciclo di allentamento un ciclo di taglio dei tassi perché ricordatevi sempre non è che il taglio dei tassi è uno non è che il mercato sconta un taglio dei tassi perfetto a settembre 18 settembre ci sarà il taglio e allora muoviamoci e posizioniamoci di di conseguenza no si tratta di un ciclo un ciclo che può durare trimestri probabilmente anni anche perché i tassi sono al 5 25 barra 5 5 per cento negli stati uniti e quindi diciamo non siamo troppo in alto storicamente non siamo troppo in alto non c'è tanto spazio per abbassare soprattutto perché ragazzi potremo essere entrati in un contesto di ve ne ho parlato più volte ve l'ho spiegato più volte oggi non vi preoccupate ve lo rispiegherò di nuovo dominanza fiscale mentre le decadi precedenti sono state caratterizzate da contesti scenari di dominanza monetaria la dominanza fiscale quando il deficit quindi lo squilibrio che si crea tra entrate e uscite debiti pubblici che sono alti danno più importanza a decisioni fiscali da parte quindi prese da parte del governo rispetto a gli strumenti e alle azioni che prende in atto e che applica la banca centrale se dovessimo essere entrati in questo scenario beh allora le cose potrebbero essere un po più complicate rispetto a quello che abbiamo visto accadere nel passato più complicate vuol dire che si potrebbe entrare una spirale inflazionistica che esattamente come accadde tra gli anni 70 e gli anni 80 porterebbe l'inflazione a salire e scendere quindi potremmo tornare sotto al 2 ma questo 2 questo valore si potrebbe rialzare si potrebbe riscendere potrebbe rialzarsi questo che a che cosa porterebbe porterebbe la banca centrale a dover intervenire con tagli aumenti di nuovo tagli dei tassi di nuovo aumenti e questi aumenti e tagli creano comunque confusione sui mercati no che da una parte scontano partendo dalle obbligazioni dei rendimenti comincerebbero a scontare i rendimenti più alti perché l'inflazione si potrebbe rialzare poi rendimenti più bassi ma questo manterrebbe comunque i rendimenti dei obbligazionari a livelli più alti con tutte dinamiche un po più problematiche per quanto riguarda la crescita economica questo ve lo dico perché sempre più spesso ragazzi leggo articoli e guardo video estremamente semplicistici che riducono tutto a qualcosa di estremamente binario taglio dei tassi vuol dire mercati che schizzano per aria sarà la nuova linfa che farà assaltare i mercati per aria quindi rialzisti oppure altri messaggi che che leggo articoli che leggo taglio dei tassi vuol dire inizio di una recessione eppure lì bisogna andare e oggi cercheremo cercherò di accompagnarvi per farvi capire quali effettivamente dei due scenari delle due narrative potrebbe essere in questo contesto più corretta ragazzi cominciamo con un po' di saluti che dite è venerdì oggi vale la pena sicuramente salutarci allora già siamo tanti eh ciao lor silver ciao adriano ciao lamberto angelo gialluca daniele luigi ciao cristian è volata anche questa settimana è vero che è volata questa settimana rp1 ci sarà qualche promozione sul lancio di contest versione 2 sì come sempre faccio ogni volta che lancio un nuovo prodotto ragazzi lo sapete che i fedelissimi gli affezionati quelli che si fidano eh rispetto a a quello che lancio otterranno sempre dei eh delle promozioni molto molto eh interessanti ciao cervazio ciao fabrizio ciao eh abramo ciao fed ciao silvano ciao samuele mattia peter bene siamo già tanti nicola carlo maria ciao davide e ciao andrè ciao samuele se l'azienda va male l'azienda cala se l'azienda va bene l'azionario cala e insomma non so a che cosa ti riferisci credo proprio tu non ti riferisca a nvidia perché se guardiamo quello che ha fatto nell'ultimo negli ultimi due anni è impressionante no quindi ciao enos ciao daniele ciao giovanni andrè dice ciao marco essendo oil uno dei dati più lenti cosa pensi la regola di sam sulla possibile recessione eh oil che cosa vuol dire oil petrolio intendi no intendevi il mondo del lavoro eh allora ragazzi ha parlato la persona che ha tirato fuori la regola di sam ok sam è il cognome di una economista ok una economista che ha tirato fuori questa teoria e che ha detto che non siamo ancora con degli aggiustamenti che devono tenere in considerazione il lavoro portato dall'immigrazione e diciamo il lavoro nero ehm non eh siamo ancora in non è ancora scattata la sua regola detto che la sua regola è una regola empirica che è che è tirata fuori dal reverse engineering come al solito ragazzi non si può ridurre tutto a ad un lo abbiamo visto anche con l'inversione della curva dei tassi di interesse no l'inversione della curva sono due anni che è invertita c'è stata la recessione no ci sarà la recessione non lo so forse sì ma questi indicatori vanno sempre presi e contestualizzati inseriti in uno scenario di analisi molto più ampio ok ciao alberto oggi compleanno di warren buffett è vero ciao elmuth ciao mess ciao nicolò faccio compagnia mentre guida però rimani attento alla guida e mi raccomando enrico dice ciao marco non riuscirò più a seguirti al momento perché sto andando a lavorare all'estero vivo in polonia da quattro anni centinaia di migliaia di polacchi stanno scappando da qui in me compreso e ok enrico so un po della situazione in in polonia e non ti preoccupare perché le dirette le potrai seguire sul mio secondo canale marco casario extra quindi con tutta quanta calma taglio le tassi aveva portato ad un crash cosa succederà ecco questa è una delle due narrative di cui vi parlavo prima oggi parliamo anche di questo non vi preoccupate la live di ieri quando esce sul mio canale le live del martedì e del giovedì escono con un po più di calma perché dobbiamo tirar fuori le clip quindi ragazzi la diretta è fatta per essere seguita in diretta se non potete seguirla in diretta non vi preoccupate perché uscirà sul canale alcune volte dovete essere un pochino più pazienti ok angelo dice di ieri è uscito il dato preliminare del prodotto interno lordo 3 per cento e abbattuto la stima come influenza questo come influenza questo dato la decisione degli investitori ragazzi è un dato preliminare è un dato che comunque guarda al passato ricordatevi sempre che gli investitori ovvero i mercati guardano al futuro quindi questi dati gli interessano un pochino di meno perché li hanno già scontati il fatto che siano andati oltre le aspettative leggermente migliorativi rispetto alle aspettative aggiunge veramente poca carne al fuoco no perché era già stato scontato Michele dice col nuovo contest è previsto un alert su quando uscire dallo short buy precedentemente indicato da no Michele perché non è una sala segnali contest non è una ecco questo grazie per questa domanda perché mi permette di farvi capire non è un servizio di segnali è una applicazione che vi aiuta drasticamente a ridurre ore e ore lasciatemi dire giorni e giorni di analisi per essere voi a cercare le opportunità col vantaggio statistico quindi fa un enorme lavoro di analisi utilizzando quella macroeconomica quella stagionale utilizzando quella fondamentale utilizzando gli allentamenti delle politiche monetarie utilizzando l'analisi tecnica fa tutta questa roba per voi e vi fornisce vi dà delle linee guida non vi dà dei segnali non è e mai e poi mai avrei sviluppato un'analisi e un'applicazione di segnali lo sapete perché l'applicazione di segnali vi rende schiavi poi diventate schiavi dell'applicazione non sarete mai indipendenti invece questa applicazione vi riduce drasticamente il grandissimo lavoro un lavoro che tra l'altro non tutti hanno le competenze per poterlo fare quindi grazie Michele per avermi fatto chiarire questa cosa poi la la ripeterò in continuazione allora ciao Lorenzo ciao Elisa Fabio grazie a Dio addirittura grazie a Dio che ci sei concordo pienamente con quello che hai appena detto sui video ciao Marco ciao SM Filippo Paolo ciao ciao Marco Andrea bene bene dai siamo tanti ragazzi e cominciamo che dite da vedere un po' i dati che sono usciti sull'inflazione perché è uscita l'inflazione in Europa ed è scesa 2,2 per cento in per l'EU e dal 2,6 per cento di luglio quindi dato piuttosto interessante e questo secondo me permette di fare un po' un sospiro di sollievo per quanto riguarda la banca centrale perché adesso si può finalmente concentrare sugli altri due mandati ovvero crescita economica e occupazione perché veramente l'inflazione ormai è vicinissima siamo al 2,2 per cento come Unione Europea ma vi faccio vedere se guardate questa colonna queste sono le stime preliminari guardate innanzi in Germania siamo scesi dal 2,6 di luglio al 2 per cento guardare quanti paesi stanno sotto al 2 per cento anche la Spagna che aveva riaccelerato vedete 2,4,3,3,3,4 siamo tornati al 2,4 per cento la Francia dal 2,7 al 2,2 l'Italia dall'1,6 all'1,3 l'Italia è stata per svariati mesi sotto all'1,3 letture di seguito poi era salita all'1,6 e adesso siamo già riscesi all'1,3 quindi diciamo che questa è sicuramente una lettura positiva via libera quindi per la banca centrale europea per preoccuparsi di meno della stabilità dei prezzi ed essere più concentrato sui tagli che permetteranno di all'economia di ripartire e sui dati del lavoro ovviamente quindi questa era la prima cosa che volevo farvi vedere ho fatto un post sul canale Telegram parlando della Cina fatemi un secondo tornare in Cina qui poi andiamo a vedere che succede sul mercato europeo Langsang allora è interessante perché siamo arrivati in un'area che io mi ero posto quest'area di attenzione era l'area diciamo di ritracciamento di questo impulso ribassista ok ora la situazione in Cina è diciamo è un po' particolare bisogna veramente prestare molta molta attenzione perché diciamo che la Cina ha sperimentato quella che è stata una uno slancio economico che però poi ha portato una maggiore pressione sul sentiment sulla fiducia interna perché non c'è un vero e proprio un vero e proprio rimbalzo dal punto di vista del credito ok non c'è nessun forte indicatore dal punto di vista macroeconomico in Cina per quanto riguarda una ripresa del settore immobiliare siamo veramente ancora lontani non c'è proprio non c'è il contesto non possiamo dire ok è stato risolto il problema immobiliare siamo sulla via del recupero no non è questa e questo che cosa fa le esportazioni di beni sono sono continuate a diminuire e quindi le famiglie la cui ricchezza è in Cina è basata proprio sul sulla ricchezza derivante dal settore immobiliare questo è il CSI 300 guardare qui che candelone che ha fatto nella chiusura poi di oggi 1,33% però c'è veramente un incentivo basso per le famiglie cinesi ad aumentare la spesa spesa interna è il è l'unica modalità che il governo cinese ha per poter far riprendere un po' l'economia ieri l'abbiamo pure visto no non so se l'ho commentato sul canale comunque sono state ritoccate a ribasso le potenzialità di crescita della Cina che ci si aspettava per il 2024 potessero essere uguali non superiori uguali al 2023 5% è stata ritoccata perché non ci si crede più ad una Cina che cresca come prodotto interno lordo al 5% e quindi staremo a vedere rimaniamo in Asia Giappone Giappone molto molto interessante questo movimento che abbiamo pure cavalcato nel nel portafoglio da 100k ragazzi il portafoglio da 100k che avete visto essere ieri ho fatto un update sul canale telegram quindi vi ho fatto vedere tutte le mie i miei incrementi i miei decrementi fatto sta che abbiamo ricevuto un po' di dati dal Giappone in particolare l'inflazione l'inflazione che è andata al di sopra delle aspettative ci si aspettava un'inflazione al 2 2 per cento che sarebbe stata la stessa delettura del mese precedente l'inflazione è uscita il core al 2 e 4 per cento anno su anno abbiamo avuto un aumento della disoccupazione ci si aspettava un 2 5 per cento la lettura è stata del 2 7 per cento abbiamo avuto invece una diminuzione importante per quanto riguarda la produzione industriale ci si aspettava un 3 6 per cento il dato è uscito al 2 8 per cento le vendite al dettaglio sono diminuite aspettative a 2 8 lettura a 2 e 6 quindi c'è un motivo lo avrete notato dal dal post che ho fatto ieri su telegram se ho cominciato a ridurre il ridurre il posizionamento che avevo sul Giappone che invece per il primo mese e mezzo all'interno del portafoglio da 100k all'interno del portafoglio da 100k mi ha portato un po' di profitti in questo mese e mezzo e adesso la posizione è molto ridotta il prezzo è ritornato in questa diciamo area ve la segnalo qua questa è un'area per me importante perché a parte questo spike che è uscito e rientrato siamo entrati in quest'area ripeto non ci sono motivazioni per ora dal punto di vista sì l'inflazione più alta potrebbe voler dire che la banca centrale giapponese ritorni ad aumentare un pochino i tassi ma non ci dimentichiamo che la banca giapponese ha anche delle dinamiche di carry trade da tenere sotto controllo quindi magari ci andrà piano staremo a vedere staremo a vedere che cosa farà per quanto mi riguarda mi avvio a riportare come asset allocation il Giappone nel mio portafoglio da 100k con la posizione minima ok bene Marco dal messaggio che hai scritto su telegram mi sembra di aver capito finalmente che parlerai un po' bene della cina johnny ma bene male ma che cosa vuol dire non è che la cina è un mio amico e ci esco la sera e quindi si può ho paura che si possa offendere se dico mi fa un po' ridere questa affermazione a me della cina non interessa nulla zero a me non interessa nulla dell'S&P 500 a me non interessa nulla di bitcoin io sono un investitore proteggo il mio capitale cercando di farlo crescere esponendolo a rischio minore a me non interessa di chi deve io c'ho un processo quantitativo che mi dice dove c'ho il vantaggio statistico ce l'ho in cina oggi il vantaggio statistico ancora no il fatto che tu abbia detto questa cosa perché ho mandato un posto sul canale telegram e che per esempio ti faccio vedere abbia cominciato a costruire questo è il gruppo di discussione che ho con gli studenti ho cominciato a costruire un long sul one cinese shortando appunto tre giorni fa il ho cominciato il 27 agosto shortando il tasso di cambio sul forex usd chn mica significa che allora allora adesso parlo bene della cina non devo parlare bene un parlare di nulla io devo riportare dei dati e devo cercare di essere oggettivo la situazione in cina è estremamente delicata e complessa il vantaggio statistico in cina oggi non ce l'ho infatti la cina non è nel mio ci avete fatto caso che non è nel mio portafoglio da 100k e non c'ho intenzione di mettercela per adesso che vuol dire è marco ce l'ha con la cina ripeto io sono agnostico da paesi e sono agnostico da asset finanziario completamente agnostico io faccio quello che devo fare solo quando ho un vantaggio statistico se non ce l'ho vado da qualche altra parte vado long sulla sull'india vado long su i paesi emergenti senza la cina vado long sul brasile vado long sulla sud africa vado long sul corea del sud sono stato long sul giappone fino adesso e adesso toglierò la mia esposizione al giappone rimarrendo rimanendo sul profilo minimo perché marco distanti vado col giappone adesso no perché sono cambiati i dati la situazione si è è cambiata rispetto a un mese e mezzo fa un mese e mezzo fa avevo più vantaggio statistico oggi ce ne ho di meno di meno non vuol dire che non c'è vantaggio ad essere long sul giappone ce ne ho di meno vado da qualche altra parte dove ce ne ce no è maggiore questo dovete capire ok allora andiamo a vedere un pochino ragazzi invece cosa accade sui mercati partiamo dall'azionario europa oggi ho visto che fusimi sta facendo il mezzo punto percentuale è tornato nella parte alta di questo rettangolo vediamo se avrà la forza di bucare e rimanere sopra e sopra questi valori intendo anche il dax 0 21 massimo storico per il dax è già con la candela di ieri e la candela di oggi prosegue sui massimi storici e io ho ancora una posizione piccolissima sul dax uno 0 5 per cento sul portafoglio da 100k e me sa che oggi lo tolgo del tutto perché perché la germania dal punto di vista macroeconomico che cosa vi sto dicendo da giorni guardando i dati non è che ve lo sto dicendo io stiamo guardando insieme i dati stiamo commentando e i dati non sono per niente positivi la germania più andiamo avanti più sembra essere direzionata verso una recessione tecnica è tecnica attenzione e quindi è stato è stato bello cavalcare questo rialzo perché l'ho cavalcato però adesso ripeto anche qui non c'è più il vantaggio statistico di prima la Francia che ha recuperato praticamente tutta la discesa vi ricordate quando c'era stata questa grossa questo grosso problema di delle elezioni in Francia e anche qui ne abbiamo approfittato e anche la Francia è arrivata al profilo minimo nel mio portafoglio per quanto riguarda invece il vix siamo sempre fermi sui 15 punti non riusciamo a scendere sotto i 15 punti mi piacerebbe vederlo in quest'area qua quindi tra i 14 e 2 e i 12 ancora non ci riesce ad andare è sicuramente una volatilità che comunque è al di sotto della tensione o della paura cioè che il livello 20 per me quello è un po lo spartiacque l'S&P 500 ieri comunque chiuso quasi con mezzo punto percentuale oggi in pre market sta facendo lo 0 22 il Nasdaq ieri anche se Nvidia è scesa e rappresenta una bella porzione dell'S&P e del Nasdaq comunque ieri ha fatto uno 0 70 oggi sta facendo in pre market uno 0 37 rendimenti che rimangono un po' inchiodati no diciamo che stanno inchiodati su quest'area qui questi sono i due anni americani ricordatevi che le brevi scadenze dei ragazzi sono quelle più soggette all'andamento delle politiche monetarie quindi stanno oscillando dal 4 1 per cento al 3 75 per siamo ormai qui dentro esattamente come i 10 anni che invece oscillano dal 4 per cento al valore più basso che è il 3 7 quindi siamo sempre più vicini a uscire dall'inversione 3 9 2 anni 3 86 10 anni la differenza ragazzi è praticamente quasi zero è quindi di nuovo stiamo per riuscire dall'inversione della curva ok dollaro americano dopo queste due belle candele oggi è un pochino fermo in attesa così come euro dollaro che vedete ha fatto questo ha completato questo secondo impulso rialzista del resto guardate qui valuta vision ci dice che l'euro negli ultime sette sessioni è una delle valute più anzi è la valuta insieme allo yen più debole ok mentre invece il dollaro neozelandese il dollaro canadese che hanno i valori più alti e sarà interessante vedere che cosa quanto la forza del dollaro possa effettivamente ricontinuare potremmo vedere un ritracciamento del dollaro magari tornare in prossimità di questi valori qua fatemi eccolo di questo bel rettangolo qui e il dollaro comunque è il trend del dollaro è ribassista ai ragazzi quindi da questo punto di vista non ci sbagliamo si sta muovendo si sta lateralizzando in quella che potrebbe essere una flag il prezzo del gold che comunque rimane al di sopra dei 2550 dollari l'oncia quindi anche qui dollaro che rimane sui suoi massimi storici non vuole cedere petrolio che aveva fatto queste due candele ieri è ripartito con un più due 20 per cento rientra dentro quello che era la mia area di attenzione scusate vediamo se ci farò qualcosa all'interno di di quest'area per ora nel gruppo di discussione con con i miei studenti parlavo del rame aspettando il rame e staremo a vedere invece per il petrolio potrei anche scrivere un post tra qualche ora perché il rame che cosa sta facendo il rame è arrivato in quella che per me era la prima area di attenzione ok ieri la sfiorata voglio che ci entri dentro è ecco perché ho scritto aspettando il rame la mia visione ovviamente ribassista perché perché la domanda dal punto di vista industriale del rame a livello globale non giustifica un prezzo al rialzo solo da questo punto di vista o non vediamo da un pochino bitcoin che guardate un po che bello guardate un po come che cosa ci eravamo detti vi ricordate non c'è ancora liquidità non solo non c'è liquidità la liquidità nel mese di la liquidità nel mese di come si dice di settembre tende anche a essere non troppo negativa e non troppo positiva ve l'ho credo già detto in una ve l'ho credo già detto in una diretta o forse in un post su telegram ah sì nel post di oggi dicevo ma non ho fatto un post proprio oggi su questa roba qui sì l'ho fatto proprio oggi e la liquidità tende a diminuire statisticamente stagionalmente a settembre e e quindi è difficile poter vedere un prezzo di bitcoin rimanere in alto quindi a me non sconvolge per niente un bitcoin che sta facendo da pallina di ping pong su quest'area di attenzione vedete ogni tanto la buca verso l'alto e poi ci rientra dentro la buca verso il basso e poi ci rientra dentro sembra proprio che la gravità stia insistendo su questi su questi valori molto interessante l'andamento di bitcoin ma anche qui niente di nuovo infatti nel mio portafoglio 100k bitcoin è fermo nel senso che non ho aumentato anzi forse l'ultima operazione che ho fatto è stata di portarmi a casa un po di profitti staremo a vedere dovremo aspettare un pochino dobbiamo vedere rientrare la volatilità allora ragazzi vediamo se c'è qualche domanda prima di passare alla seconda parte della diretta lamberto dice giornata per portare a casa profitti su oro e argento in attesa di ritracciamento per rientrare ante elezioni facciamoci quest'ultimo giro di giostra dai sì lamberto io già sto con il profilo minimo sul gold quindi sto fermo perché voglio rimanere con il profilo minimo ragazzi se avete capito un po il mio processo e del mio processo capirete sempre di più quando uscirà questo libro ormai siamo prossimi all'uscita è sta cambiando anche la copertina quindi sarà un'altra copertina abbiamo deciso con l'editore che questa copertina era un pochino spenta non ci convinceva troppo e vi spiegherò bene quello che è il quello che è il mio processo in particolare il money management perché il mio l'ho ribattezzato non esiste questo modello di money management ho ribattezzato un mio modello di money management che si chiama trend following money management che appunto tende a seguire sfruttare al massimo finché il ciclo economico ce lo permette attraverso l'analisi macroeconomica sfruttare il trend e rimanendo sempre con il la parte bassa di asset allocation sul mio profilo minimo che nel caso dell'oro è del tra l'uno e l'un per tra l'uno e l'uno e mezzo per cento perché varia un pochino perché dipende anche dalla volatilità il mio money management dipende anche dalla volatilità ok mi dai un tuo parere su crowd strike non lo so non ci sono mai uscita con crowd strike quindi luca non so che parere darti che che parere cerchi su crowd strike credo che stia ancora raccogliendo i pezzi di dei casini che ha fatto con l'ultimo update no credo che ci abbia ancora da raccogliere parecchi pezzi poi opinioni su stellantis ragazzi è evidente e mi fa molto piacere quindi vi accolgo e vi vi do il benvenuto in questa community perché in questi ultimi giorni mi sembra che stiamo avendo tante domande di questo tipo marco mi dai la tua opinione su questo marco cosa ne pensi di quell'altro marco mi dai un tuo parere su ragazzi benvenuti intanto siete nuovi è evidente perché insomma chi sta qui nella community con noi e cerca di affrontare in maniera seria oggettiva i mercati sa che queste domande non servono a niente nel senso che queste domande che avete in testa sono domande sbagliate che portano a risposte sbagliate che portano a decisioni sbagliate che quindi mettono a rischio il vostro capitale ragazzi io non penso io non ho opinioni su nulla con le opinioni non ci fate niente quello che vi serve è un processo meccanico oggettivo analitico che vi dice in che modo aggiungere all'interno del portafoglio la una un'azione in base al vostro profilo di rischio all'orizzonte temporale all'età che ci avete in base a alla diversificazione del vostro portafoglio cioè tutte domande e informazioni che se io non so il mio dirti cosa ne penso di crowd strike o cosa ne penso di stellantis a che ti serve che vuol dire cosa ne penso ragazzi qui non stiamo al bar stiamo a parlare tra amici e o ragazzi ma roma juventus che fa la juve ma secondo te segnano al primo perdono vincono secondo segnano al primo tempo cioè ok se vogliamo approcciare come al bar dello sport la finanza questo non è il canale giusto non perché sono cattivo io ma perché con quell'approccio e con quella modalità state sicuro state sicuri che i soldi li perdete sicuri al cento per cento metteteci la mano sul fuoco quindi cominciate a farvi le domande giuste se volete ottenere le risposte giuste e quindi avere un processo decisionale corretto che approccia in maniera oggettivo oggettiva statistica che si basa sulle probabilità non sulle certezze mi raccomando e ragazzi per i più diciamo per i più vecchiotti qui sul canale è bene che ci siano nuove persone che la community si diventi più grande sono contento io siamo contenti tutti e quindi un po di pazienza anche perché è giusto cercare di fornire le informazioni giuste alle persone michele dice che notizie usi per sapere la liquidità presente sul mercato non uso notizie uso dei dati ciao e ne ho spiegato tante volte michele ciò ciò parecchie parecchi video che spiego dove spiego la liquidità ok quindi se vai sul mio canale la trovi sicuramente ciao silvio buon weekend anche a te quando esce il mio libro noi della community lo possiamo prendere a sconto farei una promo mario il libro è già a sconto eccolo qua questo è il prezzo più basso che potete ottenere 28 e 40 lo trovate su amazon considera che quando il libro verrà stampato e uscirà nelle librerie l'editore mi ha detto perché il prezzo non lo decido io il prezzo lo decide l'editore il libro è l'editore webli visto che il libro è molto più grande in termini di pagine di quello che avevamo prestabilito il prezzo mi ha detto che salirà tra i 35 e 39 e 90 quindi se pensate di comprarlo il consiglio che vi do e anche se l'editore mi ha detto marco non promuoverlo troppo perché a quel prezzo noi ci andiamo praticamente a break even e quindi compratelo adesso è il consiglio spassionato da amico che vi posso dare chissà che il processo quantitativo usato gigi per estrarre le palline del sorteggio della champions si ieri ho visto che stava in champions e l'hanno anche stra premiato ho visto ho visto che c'era anche cristiano ronaldo e allora mes dice tutte queste domande sulle tue opinioni personali su cosa fare sui mercati perché mi fanno un po tenerezza e paura per quelli che si mettono a mercato in queste condizioni siamo abbiamo cominciato tutti dall'inizio ok abbiamo tutti quanti c'è stato per tutti il momento zero quindi per questo che dobbiamo avere pazienza con chi inizia da zero che ancora non ha ben capito come funzionano i mercati come si approcciano i mercati ecco vedi come fabio che mi chiede cosa ne penso di ultra beauty ok è proprio proprio a fagiolo alberto e fabio scusami ti ho risposto prima che dice contest oggi oggi su contest siamo in rilascio di alcune modifiche e aggiunte di funzionalità che abbiamo fatto quindi non ve la posso far vedere perché stiamo facendo il deploy in questo momento magari vi fa ve la faccio vedere dopo in vi mando un la proposta della watch list ve la mando sul canale telegram ok ci servono un paio d'ore allora ragazzi che ne dite se passiamo alla seconda parte della della diretta e perché abbiamo ancora tanto da dire mica è finita qui la la diretta oggi dobbiamo analizzare un punto importante perché siamo sempre più vicini all'inizio dell'attesissimo taglio dei tassi di interesse e ormai anche il presidente della banca centrale americana lo ha dichiarato pubblicamente ci sarà il taglio dei tassi il 18 settembre e ci sono due narrative molto diverse una che mostra come se diamo uno sguardo al passato scopriamo che in quasi tutte le occasioni in cui la fed ha iniziato a tagliare i tassi è seguita una recessione guardate questo grafico qua infatti ed una narrativa che invece è opposta che dice che il taglio dei tassi vuol dire mercati azionari che saliranno senza tregua ora quale dei due scenari è vero e si potrebbe verificare salve a tutti marco casario qui ed in questo video cercherò di spiegarvi come stanno davvero le cose e che non contestualizzare gli aspetti economici e finanziari attuale potrebbe mettere a rischio il nostro capitale investito e farci prendere decisioni affrettate e sbagliate stiamo infatti attraversando un periodo che potrebbe portare ad una economia più frammentata e multipolare nella quale l'attuale combinazione di debito pubblico a livelli altissimi deficit previsti non sostenibili potremmo assistere a quella che viene definita la monetizzazione del debito che potrebbe appunto far centrare una spirale inflazionistica e ai mercati questa situazione potrebbe non piacere per niente andiamo con ordine così vi accompagno a piccoli passi nel ragionamento che come al solito però attenzione affonda le basi su dati oggettivi oggettivi allora facciamo un po di storia dal 1995 per gran parte degli anni 40 fino praticamente agli anni 80 la politica monetaria della banca centrale è stata caratterizzata da una tendenza prevalente all'aumento dei tassi di interesse questo periodo storico è stato segnato da una serie di sfide economiche tra cui seconda guerra mondiale il boom economico post bellico la guerra di corea la guerra del vietnam e ovviamente la grande crisi energetica degli anni 70 in questo contesto la fed adottò un approccio aggressivo al controllo dell'inflazione aumentando i tassi di interesse per raffreddare l'economia ogni volta che i prezzi iniziavano a salire troppo velocemente ci sono stati sicuramente alcuni periodi di tagli dei tassi lo vediamo anche qui dal grafico ma questi furono generalmente brevi e venivano rapidamente seguiti da ulteriori aumenti ad esempio durante la crisi petrolifera tra il 73 e il 74 i prezzi dell'energia aumentarono vertiginosamente spingendo l'inflazione a livelli altissimi in risposta la banca centrale fu costretta ad incrementare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione galoppante nonostante l'economia già stesse attraversando una recessione questa politica di stop and go cioè ferma i tassi poi riaumentali poi diminuisceli non fece altro che contribuire a creare un ambiente economico instabile in cui i periodi di crescita economica erano seguite da bruschissime frenate con l'inflazione che si manteneva comunque a livelli elevati e guardare questo grafico in quel periodo il dow jones industrial crollò del 46 per cento e impiegò dieci anni per recuperare i suoi massimi il culmine di questo ciclo di politica monetaria restrittivi si ebbe proprio alla fine degli anni 70 quando l'inflazione negli stati uniti raggiunse i livelli senza precedenti superando il 13 per cento la fed che all'epoca era sotto la guida di paul volker adottò misure draconiane aumentando i tassi di interesse a livelli record superiori al 20 per cento per cercare di domare l'inflazione questi interventi portarono portarono ad una severa recessione all'inizio degli anni 80 ma alla fine riuscirono a stabilizzare finalmente i prezzi e a ristabilizzare la fiducia nell'economia americana dopo il picco del 1980 la politica della banca centrale americana cambiò drasticamente perché per i successivi 40 anni fino al 2020 la tendenza generale dei tassi di interesse fu invece a ribasso quindi si capovolse questo lungo periodo di tassi in diminuzione fu alimentato da una serie di fattori tra cui la globalizzazione che ovviamente contribuì a mantenere i bassi che cosa i costi di produzione e quindi l'inflazione costi al consumo e costi al per la produzione l'ascesa della tecnologia migliorò l'efficienza economica e la produttività industriale e poi l'espansione del commercio internazionale che ovviamente portò ad un ambiente economico generalmente più stabile quindi i tassi di interessi più bassi furono utilizzati per stimolare questa grande crescita economica incentivare i consumi e promuovere l'espansione del credito sia a livello personale che a livello aziendale ora vedete se la storia qualcosina ce la può insegnare beh in questo momento probabilmente ci troviamo in un periodo che somiglia molto agli anni che andarono tra il 1940 e il 1980 rispetto agli anni che abbiamo vissuto dal 1980 al 2020 questo significa che potremo doverci preparare ad un ambiente di tassi di interessi più alti per un periodo prolungato nonostante ovviamente possano esserci momenti di temporanea riduzione dei tassi come quello che stiamo vivendo attualmente e che Powell comincerà proprio tra qualche settimana questi tagli dei tassi anziché però essere una soluzione duratura potrebbero rivelarsi un'arma a doppio taglio vi spiego perché ridurre i tassi in un ambiente che è già caratterizzato da un'inflazione non troppo bassa potrebbe alimentare ulteriormente la spirale inflazionistica costringendo la fed a intervenire di nuovo con aumento dei tassi esattamente come accadde tra il 40 e gli anni 80 questo portando ad un ciclo di alti e bassi tassi di interesse che potrebbe appunto caratterizzare i prossimi decenni e a questo a cui dobbiamo stare attenti come investitori di lungo termine un altro punto cruciale che emerge dall'analisi storica delle recessioni degli Stati Uniti è il legame stretto e lasciatemi dire praticamente inevitabile tra queste crisi economiche e i tagli dei tassi di interesse osservando infatti i dati dal 1955 ad oggi emerge una tendenza che è sorprendentemente costante ogni recessione significativa è stata preceduta o comunque accompagnata da una serie di tagli ai tassi di interesse ma attenzione non è il taglio dei tassi a causare la recessione vedete in realtà la fed inizia a tagliare i tassi perché comincia ad avvertire o un rallentamento economico o un innalzamento della disoccupazione e quindi interviene sui tassi nella speranza di stimolare l'attività economica e prevenire una contrazione più grave però solitamente questo intervento spesso arriva troppo tardi o è insufficiente per riuscire ad invertire per tempo il corso degli eventi risultando in una recessione inevitabile ci sono alcune eccezioni che comunque sono degne di nota a questa regola è perché nel 1966 nel 1984 quando i tagli dei tassi non portarono immediatamente ad una recessione però questi casi sono casi rari e nel quadro complessivo la tendenza rimane chiara il taglio dei tassi da parte della fed è spesso un preludio ad una recessione ora se applichiamo questa statistica questa lente storica ai segnali attuali dell'economia emergono ulteriori indizi che dobbiamo tenere sotto osservazione soprattutto nel mondo del lavoro di cui più volte abbiamo parlato qui sul canale quindi vi invito ad andarvi a rivedere quei video ora cosa succede quando inizia il ciclo dei tagli dei tassi di interesse a mercati al mercato azionario allora i tagli dei tassi di interesse sono comunemente visti come uno strumento per stimolare l'economia questo perché almeno su carta riducono il costo del denaro incoraggiano le imprese e i consumatori a spendere di più e quindi le aziende possono ottenere prestiti a tassi più bassi per finanziare nuove espansioni investimenti in capitale progetti di ricerca e sviluppo assumere di più mentre i consumatori possono trovare più conveniente acquistare beni di consumo durevole per esempio automobili case perché i tassi ipotecari sui prestiti sono ovviamente più bassi quindi questo aumento della spesa dovrebbe in linea di principio tradursi in una crescita economica accelerata ed è per questo motivo che i tagli dei tassi rientrano nella cosiddetta politica monetaria espansionistica in periodi di crisi o di crescita economica stagnante le banche centrali la bce la fed per fare degli esempi riducono i tassi di interesse per iniettare energia nell'economia sperando appunto di far ripartire il ciclo economico vedete il tasso dei fondi federali è un parametro di riferimento cruciale non solo per l'economia americana ma per il mondo intero perché questo tasso determina il costo al quale le banche si prestano denaro a vicenda per brevi periodi e quindi influenza direttamente tutti gli altri tassi di interesse compresi quelli sui prestiti personali sulle carte di credito sui mutui e sui prestiti aziendale l'importanza del tasso dei fondi federali però non è che si ferma agli stati uniti perché bisogna considerare la l'influenza dell'economia americana nel mondo il tasso di riferimento statunitense ha un impatto significativo anche sull'economia di altri paesi dai mercati emergenti ma anche al cugino degli stati uniti che è il canada no che per esempio la banca centrale del canada si potrebbe sentire costretta a seguire l'esempio di tagli della fed per cercare di evitare che il dollaro canadese si apprezzi troppo rispetto al dollaro americano no e questo renderebbe le esportazioni canadesi meno competitive e stesso discorso per per gli altri paesi quindi considerando tutto questo si potrebbe ragionevolmente aspettare che quando un taglio dei tassi viene finalmente annunciato le borse mondiali non solo quelle americane reagiscano con entusiasmo con le azioni che schizzano verso l'alto i mercati che celebrano l'iniezione di liquidità ma è davvero così in realtà come al solito la risposta non è binaria sì o no è più articolata e va sicuramente snocciolata ci sono stati nella storia lo vedete da questo grafico nove tagli iniziali dei tassi della fed che hanno dato inizio ad un ciclo di tagli dei tassi il primo più o meno più o meno lunghi ovviamente dal primo gennaio dell'ottantacinque se osserviamo le performance dell'S&P 500 durante questi periodi allora il mercato azionario americano tende a salire nei successivi tre mesi dopo l'inizio quindi successivi tre mesi dopo l'inizio di un ciclo di tagli dei tassi diciamoci un'altra cosa per chi mastica un po di statistica sa perfettamente che con solo nove cicli di tagli dei tassi il bacino statistica a cui facciamo riferimento a diciamo poca sicurezza ok però vi faccio vedere un altro grafico guardate lo aspettate che ve lo metto un pochino qui più piccolo se riesco così si vede ecco forse si vede meglio così questo grafico mostra la cronologia dei tagli della fed con una misurazione di come sono stati i rendimenti futuri e idro down quindi i ritracciamenti negativi dell'S&P 500 nei 12 mesi successivi alla data del primo taglio e qui ci sono varie barre ragazzi allora le barre rosse indicano i rendimenti futuri a 12 mesi quando si verifica una recessione entro i 12 mesi successivi le barre blu indicano i rendimenti futuri sempre a 12 mesi quando non si verifica una recessione entro i 12 mesi e invece quei diamantini rossi che vedete altro non è che non è che il drawdown cioè il calo massimo nei 12 mesi successivi a partire dalla prima data dei tagli tutta a destra poi vedete le le medie ok però vi riassumo io questo questo grafico si capisce che i risultati delle performance dell'azionario dipendono in maniera significativa dal fatto che il motivo del taglio da parte della fed fosse o meno per cercare di andare a allontanare le possibilità di una recessione e per capire perché è utile guardare esempi storici e considerare alcune delle dinamiche in gioco per esempio durante la crisi finanziaria del 2008 durante la dot com bubble del 2000 la fed i tassi li ha tagliati li ha tagliati anche in modo aggressivo per cercare di contrastare il crollo dei mercati inizialmente questi tagli hanno fornito un sollievo ai mercati ma non hanno impedito di registrare pesantissime perdite nei mesi successivi vedete questo perché sebbene i tagli dei tassi possano stimolare l'economia non sempre riescono a farlo abbastanza velocemente da contrastare gli effetti negativi di una crisi in atto in altre parole i tagli dei tassi possono alleviare i sintomi ma non sempre curano la malattia quindi una delle ragioni per cui i mercati potrebbero non reagire immediatamente con un forte rialzo ai tagli dei tassi è che queste misure sono spesso percepite come un segnale da parte della banca centrale che l'economia è in difficoltà e vedete proprio per questo motivo più volte vi ho ripetuto nei video precedenti che se la fed a settembre dovesse tagliare più di quello che il mercato si aspetta e oggi si aspetta un taglio da 25 punti base ovvero dello 0,25 per cento beh in questo caso i mercati potrebbero reagire negativamente perché vedrebbero segnali preoccupanti di una recessione imminente o di una difesa per difendersi da quello che potrebbe diventare un deterioramento economico più grave torniamo quindi all'inizio del ciclo dei tagli che dovrebbe partire a breve quindi torniamo nel presente dopo questa passeggiata nel nel passato e nella storia che è importante per capire no per capire quello che ci aspetta ragazzi dobbiamo vedere come si è comportato il passato il che non vuol dire che il passato ci dirà il futuro perché il presente va contestualizzato quindi nel complesso e per quello che stanno facendo i dati stiamo sovrastimando l'importanza della politica monetaria in questa fase perché ci sono altri fattori che avranno un impatto maggiore sui mercati rispetto al singolo taglio dei tassi perché ci troviamo in un momento in cui le dinamiche globali stanno evolvendo in modo estremamente complesso rendendo meno efficace l'azione della politica monetaria rispetto al passato ci sono diversi fattori strutturali e ciclici che stanno influenzando l'economia globale e i mercati finanziari che potrebbero avere un peso maggiore rispetto ai soli cambiamenti di politica monetaria perché stiamo entrando o forse già ci siamo non ho gli strumenti per potervi dire se già ci siamo in uno scenario di dominanza fiscale che è ben diversa dalla dominanza monetaria che abbiamo visto fino ad oggi fatemi spiegare che cosa vuol dire la dominanza fiscale si verifica quando l'accumulo di debito pubblico da parte di uno stato e il continuo aumento del deficit il differenziale tra entrate e uscite provocano un'inflazione che domina quindi sovrascrive gli sforzi della banca centrale che cerca di mantenere ovviamente i prezzi al consumo sotto controllo in parole più semplici si verifica quando la dominanza fiscale quando le necessità fiscali di un governo quindi la necessità di finanziare un grande debito pubblico o un deficit di bilancio diventano così pressanti da ignorare completamente o parzialmente le politiche della banca centrale quindi la politica fiscale ovvero le decisioni su tasse e spese pubbliche da parte di un governo prevale sugli orientamenti delle politiche monetarie che sono le decisioni sui tassi di interesse e l'offerta monetaria che fa una banca centrale forzando la banca centrale a monetizzare il debito pubblico cioè a creare nuova moneta per finanziare il debito del governo questo porta come risultato l'aumento dell'inflazione ricordiamoci che il debito pubblico è finanziato principalmente attraverso le emissioni di titoli di stato che sono acquistati da banche commerciali ovviamente banca centrale e da investitori privati o stranieri quando il debito diventa troppo elevato rispetto al prodotto interno lordo gli investitori iniziano a pretendere rendimenti più alti per compensare il rischio percepito di inflazione o di insolvenza del governo e guardate questo grafico questo è il grafico della spesa per interessi cioè quanto il governo deve pagare di interessi sul debito emesso guardate quanto sta aumentando è una linea praticamente retta verso l'alto e se il governo non si può permettere di pagare questi rendimenti più alti beh potrebbe non riuscire a vendere abbastanza titoli di stato per finanziare il deficit e questo può portare il governo a ricorrere alla banca centrale che deve finanziare direttamente il debito in questo caso degli Stati Uniti attraverso la creazione di moneta ed è questo processo la creazione di moneta ulteriore che va ad impattare sull'inflazione e a diminuire il nostro potere d'acquisto vedete se il governo supera quello che tecnicamente si chiama il tetto di sostenibilità del debito allora la dominanza fiscale costringe la banca centrale a monetizzare il deficit portando all'inflazione elevata questo meccanismo si verifica perché il governo inizia a stampare denaro per pagare le spese riducendo la quantità di debito pubblico che deve essere finanziata attraverso i mercati ma a costo di un aumento dell'inflazione quando i mercati finanziari percepiscono che il debito è vicino ad un livello insostenibile secondo voi che cosa succede beh possono iniziare per esempio ad aumentare i tassi di interesse richiesto richiesti sui titoli di Stato e quindi anche loro cominciano ad anticipare un aumento dell'inflazione che ancora non è avvenuta ma loro la cominciano a scontare ricordate che i mercati non guardano mai al presente guardano sempre al futuro e questo può accelerare la crisi rendendo la dominanza fiscale una profezia auto avverante per la recessione fatemi mettere bene questo grafico qui che così lo vedete perché c'è un'altra questione l'eccessiva dipendenza dai mercati azionari americani da parte di investitori globali che ha creato una situazione in cui le valutazioni di oggi di alcune delle più grandi aziende americane sono praticamente diventate estremamente alte lasciando davvero poco poco margine per ulteriori aumenti significativi senza una grande correzione del mercato parliamo di aziende come apple amazon nvidia microsoft che sono state oggetto di investimenti massicci spingendo i loro prezzi a livelli che molti analisti considerano insostenibili nel lungo termine vedete se la fed decidesse di tagliare i tassi è probabile che gli investitori invece che continuare a puntare e a investire su queste aziende ad enorme capitalizzazione potrebbero iniziare a cercare opportunità in mercati che sono stati meno sfruttati o in settori che offrono maggiori prospettive di crescita ciclica pensate per esempio alle small cap o pensate ai settori come l'industrial si materials un altro settore che per esempio potrebbe beneficiarne sebbene in misura ovviamente più limitata è quello delle aree marginali dell'economia ciclica settore manifatturiero il settore dell'edilizia commerciale questi settori tendono ad essere più sensibili ai costi di finanziamento e quindi potrebbero trarre un vantaggio da un modesto abbassamento dei tassi oppure uscendo dagli stati uniti chi è che potrebbe beneficiare di questa rotazione di capitale i mercati emergenti no brasile india indonesia sud africa offrono opportunità di crescita che sebbene più rischioso ovviamente rispetto ai mercati sviluppati beh però possono risultare molto attraenti in un contesto di tassi di interesse globali più bassi un fattore cruciale infatti che favorirebbe questi mercati è il potenziale indebolimento del dollaro molte economie emergenti hanno debiti significativi in dollari americani un depreciamento della valuta americana ridurrebbe il peso di questi debiti facilitando quindi il loro rimborso e migliorando la stabilità finanziaria di questi paesi vedete questo è il debito del Brasile no facciamo portiamo proprio questo esempio il caso del Brasile il debito estero del Brasile è in gran parte denominato in dollari americani il che significa che quando il dollaro si rafforza il costo del servizio di quel debito aumenta assorbendo risorse che potrebbero altrimenti essere destinate ad investimenti interni per esempio no però se il dollaro si dovesse indebolire in seguito per esempio all'inizio del ciclo di taglio dei tassi da parte della Fed beh il loro il Brasile vedrebbe ridursi il peso del suo debito estero liberando risorse per stimolare la crescita economica interna investendo in infrastrutture promuovendo per esempio lo sviluppo del settore industriale e tutto questo potrebbe attrarre ulteriori investimenti internazionali spingendo gli investitori a spostare i loro capitali dai mercati americani che sono estremamente sopravvalutati verso per esempio opportunità più interessanti dei mercati emergenti come il Brasile come un altro esempio è l'India non è un caso che l'India e i mercati emergenti che a parte la Cina stanno anche nel mio portafoglio da 100k e vi consiglio di andarvi a vedere i video se ancora non li avete visti è comunque importante notare che questo processo non è ovviamente privo di rischi perché i mercati emergenti anche se sono redditizi sono anche noti per la loro volatilità e per i rischi politici ed economici interni no un rallentamento economico globale tensioni geopolitiche un improvviso cambiamento nelle politiche monetarie delle economie sviluppate beh questo potrebbe invertire rapidamente i flussi dei capitali quindi insomma fate sempre attenzione perché vi sto raccontando tutto questo vi sto dicendo tutto questo per non per spaventarvi assolutamente no ma perché come investitori di breve medio lungo termine l'unica arma che abbiamo per capire come proteggere il nostro capitale è attraverso la conoscenza e sapendo tutte queste cose e non riducendo in maniera semplicistica a taglio dei tassi vuol dire recessione oppure a taglio dei tassi vuol dire che adesso le azioni schizzano perché ragazzi non funziona così il mondo economico e finanziario è molto più complesso quindi attenzione a chi riduce in maniera troppo semplicistica le implicazioni che un ciclo del taglio dei tassi può avere su economia e finanza nello scenario attuale i tagli dei tassi infatti potrebbero avere un certo impatto sull'economia e la loro efficacia complessiva potrebbe essere inferiore rispetto al passato e non solo potrebbe diciamo così andare ad impattare solo alcune aree specifiche dell'economia vedete tutto questo non significa che ok allora marco ci sta dicendo che il taglio dei tassi non impatterà in nessun modo sui prezzi delle azioni no sto dicendo che potrebbe essere pericoloso presumere che i tagli dei tassi saranno sempre seguiti da una forte performance generalizzata soprattutto considerando che nella maggior parte dei casi i tagli dei tassi vengono effettuati per contrastare l'insorgere di una recessione o comunque altre forme di depressione economica o di aumento della disoccupazione quindi qui la domanda è la fed sta intervenendo in tempo o ha tenuto i tassi troppo in alto per troppo tempo in più in questo scenario attuale quindi contestualizziamo ci sono altri fattori che devono essere considerati quando si osserva come si potrebbero comportare le azioni le valutazioni delle azioni l'abbiamo detto prima sono già vicine ai loro massimi storici la spesa pubblica il debito abbiamo detto che sono elevati la curva dei rendimenti che mostra i prestiti a lungo termine hanno già i tassi di interesse più bassi rispetto a rispetto ai prestiti a breve termine e faccio vedere l'ultimo grafico che è una tabella in realtà durante le recessioni passate i tassi di interesse questa è un'altra cosa che dobbiamo considerare erano molto più alti quindi la banca centrale aveva più margine per tagliarli e quindi aveva più margine per stimolare l'economia ma oggi i tassi al 5 e 5 per cento sono già bassi rispetto a ai valori storici e quindi lo spazio di manovra di operabilità della fed è limitato e questo potrebbe significare che ci potrebbe essere più volatilità sui mercati e ci potrebbe essere più volatilità in aree specifiche dell'economia per esempio le piccole imprese alcuni settori ciclici potrebbero beneficiarne ma ce ne potrebbero essere altri come per esempio i cittadini se pensate a i proprietari di casa che vogliono andare a ridiscutere il 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 tasso ipotecario in quel caso lì ci potrebbe essere poca convenienza proprio perché sì magari i tassi di interesse la fed li abbassa ma magari li abbassa dell'un per cento dell'uno e mezzo per cento e poi è costretta a rialzarli quindi bisogna veramente capire bene la situazione lasciatemi qui sotto un commento per dirmi se c'è qualcosa da aggiungere o qualcosa che non si è capito bene volete approfondisca magari nelle prossime dirette io intanto vi ringrazio per l'attenzione e buoni investimenti a tutti ciao anzi facciamoci qualche domanda e vedo che scrivendo è allora andiamo a vedere qualche domanda allora eliminando tutti i cicli è giusto che un minimo di interessi passivi e negativi è giusto che ci sia sì è vero il pc è uscito a 2.6 quindi è rimasto in linea ma ragazzi il pc a 2.6 vuol dire che rimane appiccicoso qui abbiamo l'inflazione che in america non si muove comunque è positivo perché almeno non c'è stato un rimbalzo e i mercati vediamo come non sono ancora aperti i mercati però vi direi che non è che hanno avuto una anzi stanno salendo sta salendo l'SMP e sta salendo il nasdaq poi andiamo a vedere poi andrò a vedere bene come come i dati sotto al i dati sotto al dato come vi dico sempre non vi ci fermiamo al dato poi apriamo il cofano esatto Lamberto non mi arriva la risposta allora allora ok ma allora non è così facile francesco dice emotivamente non lo è di drawdown ce ne saranno sono fisiologici ma chiediamo ai signori che su 100k chiediamo ai signori che su 100k e vedendo meno 50 hanno veduto le posizioni sono pochissimi bene dai ok ragazzi sto vedendo che vi siete risposti da soli sono contento che mentre io parlo voi vi chiacchierate vi fate domande vi rispondete pure bravi e dai ragazzi allora direi di chiudere qui la diretta io vi ringrazio per l'attenzione o buon fine settimana a tutti domenica ci sarà un gran bel video da guardarsi sono sicuro che vi vi piacerà come al solito iscrivetevi al canale mettetemi un like noi ci vediamo prestissimo buoni investimenti a tutti ciao